Il nostro futuro è il telelavoro? Per i dipendenti di AXA Bank Belgio che cercano di fare da pionieri la risposta è già chiara. Dal primo settembre potranno decidere di lavorare da casa o dall'ufficio ogni volta che ne hanno bisogno nell'ambito di un accordo sindacale, sperando nella fine della pandemia le organizzazioni europee si stanno dunque adeguando. È possibile che lavorerai a un progetto cinque giorni da casa o una settimana e poi verrai in ufficio tre giorni la settimana successiva per incontrare i colleghi, per presentare ciò che stai preparando. Il nostro modo di lavorare evita situazioni estreme, non avrai mai un collega che non si faccia vedere al lavoro. Le barriere contro il lavoro a distanza sembrano dunque cadere, il 66% dei lavoratori pensa che i datori di lavoro dovrebbero consentire un lavoro più flessibile in futuro. Un sondaggio Ipsos in 29 paesi per il World Economic Forum lo afferma. I favorevoli puntano a una media di 2,5 giorni di lavoro da casa. In Europa i più resti sono Belgio e Francia che chiedono in media 1,9 giorni. Dal punto di vista della politica europea le tendenze mostrano che è tempo di creare le condizioni per modelli di lavoro ibridi all'interno del mercato unico. Il nuovo regime di lavoro a distanza comporta rischi, sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. Quello che abbiamo attualmente in realtà è un accordo quadro europeo sul telelavoro che risale al 2002. Dopo 20 anni di sviluppo tecnologico e la pandemia nel mezzo, penso sia giusto dire che è tempo di fare un aggiornamento. Tra i rischi principali, esaurimento nervoso, mancanza di coesione sociale, disimpegno e una serie di problematiche da risolvere. La condivisione dei costi operativi, internet, elettricità e materiale d'ufficio ad esempio. La Commissione europea e il Parlamento stanno ora ammettendo a punto le proprie politiche di telelavoro. Queste promettono di essere oggetto di accese controversie in autunno.